Adottati arriva quella che l'amministrazione comunale ha definito la prima buona notizia del 2021. È stato infatti finanziato il progetto per l'impianto di videosorveglianza proposto dal Comune. Si tratta di lavori per un totale di 43.297 euro, di cui 5.000 euro cofinanziati dall'ente comunale e 38.297 invece l'importo finanziato. Il progetto prevede l'installazione di 12 telecamere più 5 fototrappole, che si aggiungono alle 4 già installate. Saranno telecamere munite anche di funzione di lettura delle targhe e saranno posizionate nei punti di accesso al paese e alla montagna, patrimonio immenso da tutelare e nei punti di maggiore rilevanza del centro urbano. Un importante progetto per l'amministrazione comunale che mira a garantire la sicurezza urbana, specialmente degli anziani spesso soli, e a prevenire fenomeni di criminalità ambientale legati all'abbandono indiscriminato di rifiuti. In relazione a quest'ultimo obiettivo, già qualche mese fa, sono state installate 4 fototrappole nei pressi dei punti di conferimento dei rifiuti situati nel territorio comunale. A queste se ne aggiungeranno dunque altre 5 con il finanziamento appena ricevuto. Un intervento, ha spiegato il sindaco Elio Guadagno, che garantisce maggiore sicurezza a tutti, anche alla luce dei tanti furti e atti vandalici che si sono registrati negli ultimi tempi. Lo scopo è anche quello di trasmettere tranquillità ai figli e nipoti delle persone anziane rimaste soli e adottati, che per ragioni di lavoro o di studio sono emigrate, evitando quindi che decidano di riportare i loro cari in centri di maggiore sviluppo. Inoltre, a concluso, il progetto si pone a riserva del patrimonio ambientale che abbiamo, quale la montagna.